Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ufficialmente apriamo il canale Pensate che è uno dei pochi youtuber che aveva già un sacco di video prima di aprire il canale Ma vi spiegherò meglio Comunque questo è il primo video del canale in assoluto, lo vedete proprio come il primo video del canale E come, che cos'è? Com'è? Com'è questo canale? In questo canale ci saranno giochi, viaggi, cose varie in casa, unboxing eccetera Comunque varie in canale come tanti altri Ma, ma ci saranno anche dei video vecchi Quindi siccome io, come vi dicevo, ho già una sfilza di video già registrati Quando uscirà un video vecchio, io lo scriverò proprio nel titolo E verrà elencato in una playlist di video vecchi Quindi se vi vedete che in un video c'è una qualità maggiore E in un altro video c'è una qualità brutta E appunto perché sono stati fatti in due epoche diverse E quindi andrò a pubblicare questi video vecchi insieme ai video nuovi Per poi andare a finire tutta la cronologia dei video che avevo già registrato Per fare quelli nuovi, sempre più nuovi Qua siamo a 1 minuto e 30, direi che anche con pochi tagli va bene questo video Ciao 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 Grazie a tutti.